Siamo a Ternate con Silvano Ribolzi che è un cittadino di Travedona Monate che un anno fa appena scoppiato la guerra in Ucraina ha iniziato a raccogliere materiale e a portarlo personalmente in Ucraina con i furgoni. La rete si è allargata tantissimo quindi è vero che la guerra va avanti ma va avanti anche la solidarietà e siamo qui con Silvano che ci racconta innanzitutto com'è nata questa avventura solidale che sta coinvolgendo non solo Ternate e Travedona ma tutta la provincia di Varese. Ciao a tutti, la storia è nata perché dal secondo giorno di guerra ho visto Olga della Ferramenta Laudi di Biandrono che stava raccogliendo, ho chiesto che cosa stesse facendo, quando sono andato a casa mi sono incominciato a preoccupare, ho detto non posso stare con le mani in mano ci devo mettere qualcosa di mio e alla fine ho incominciato a raccogliere, ho messo un messaggio su Facebook e ho praticamente invaso tutti i gruppi della provincia di Varese e del circondario e ho avuto tantissime adesioni, tantissima gente che mi ha aiutato e ad oggi siamo qua. Abbiamo fatto sette viaggi organizzati, tre di cui ne ho completamente preso parte e adesso siccome abbiamo molta difficoltà nel fare i trasporti per il costo perché non abbiamo i mezzi e tutto ho organizzato appunto una cena che sarà fatta il 20 di questo mese non che di marzo al vecchio 800 a Gavirate è completamente una cena benefica e a tal punto voglio anche ringraziare Leo Coppola che è il titolare del ristorante che ci ha dato questa possibilità e quindi tutto l'incasso viene devoluto praticamente per sostenere le spese di questo viaggio. Purtroppo la guerra sta andando avanti e quindi ci sarà sempre bisogno di solidarietà, purtroppo quando passa il tempo magari la gente si è meno attenta a queste esigenze, la rete solidale quindi andrà avanti e con quali prospettive per il futuro? Le prospettive sono veramente veramente brutte per il semplice fatto che ogni giorno sentiamo che invadono, bombardano, ci sono morti e via discorrendo. Io purtroppo sto cercando di aiutare completamente la parte alta dell'Ucraina consegnando a Novo Yavoris dove ho dei contatti con il sindaco e dove si occupa di distribuire questi materiali a persone bisognose piuttosto che ai militari, infatti tramite l'SOS dei laghi raccogliamo tantissimo anche per medicine e roba per militari. Poi ho conosciuto in questo periodo, forse un mesetto dopo che è iniziata la guerra, una famiglia di Luvinate Ucraina che abitava da Luvinate Ucraina che si chiama Maria, questa signora con quattro figli e il marito che avevano bisogno, mi hanno chiamato e da lì oltre ad aiutare loro ho incominciato a raccogliere anche per loro e stiamo mandando anche gli aiuti in Trascarpazia presso padre Vasili che è un padre ortodosso che aiuta le persone anziane e soprattutto degli ospedali pediatrici. Chi volesse dare una mano o portare del materiale da donare agli ucranici cosa deve fare oltre a partecipare sicuramente alla cena del 20 marzo a Gavierate? Allora, innanzitutto a tal proposito voglio ringraziare il sindaco di Ternate che ci ha donato, ci ha reso possibile utilizzare dei locali da prima sotto le scuole e adesso in Villa Leonardi in piazza Ternate dove stiamo raccogliendo veramente tanto, quindi adesso il punto di ritrovo della merce è in piazza Villa Leonardi di fianco al municipio Ternate e basta che contattano me al 335 456 486 che è il mio cellulare oppure Maria che purtroppo il numero di cellulare non lo ricordo a memoria, comunque poi te lo dico lo scrivi e altre cose basta che guardano su Facebook perché come ripeto dall'inizio della guerra quindi è un anno a questa parte che su tutto il mio profilo ci sono tutte le notizie riguardanti alle raccolte che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che purtroppo devo continuare ad andare avanti a farle ma non dico devo perché sono obbligato, perché il cuore me lo chiede.